La mia moglie ha portato la macchinetta del caffè per chi vorrà più tardi prendere un goccetto di caffè. Noi ve lo anticipiamo con la tazza di caffè. La mia moglie è meglio di non portarle dietro. Perché? Vabbè così? Bravo, ciao! Grazie a tutti. e non c'è un sito da Puglia. Ma tu non ci si muoio, rigida, la sua casa è parita, sotto il dito, tutto il dito, di conpa a casa si, ma è pure a casa, se la mia casa ti va, con oggi ho scontato la sua fine, il mondo non arriva lui è molto facile non si trova non sfumava il chiede che vi stiava da una festa di musica per il gioco non si può 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 una volta ma Lucio Ma Ma La 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 popolazione La popolazione La popolazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti